Una finestra sulle eccellenze del settore della gastronomia, della produzione e della trasformazione di prodotti agroalimentari, con un occhio particolare sulle tipicità anche come veicolo di rilancio del territorio. Questo è Gastronomica 2014, l'evento ospitato nell'Expo di Latina, che vede diversi operatori del settore nel Sud Lazio portare i loro prodotti e la loro esperienza a migliaia di buyers e visitatori. Tra gli espositori c'è Qualitalia, l'azienda di Aquino, che ha deciso di portare anche in provincia di Latina i propri prodotti e la propria esperienza nel settore. La gastronomica parla di alimenti e in particolare praticamente di prodotti nazionali del territorio. C'è tutto quello che riguarda il food e l'alimentazione, quindi dal vino, la carne, i gelati e quant'altro. E noi operiamo nel settore della carne, in specifico per quanto riguarda gli additivi, budella, spezie, aromi, prodotti che servono per la lavorazione della carne, degli insaccati. Puntare sulle tipicità è una delle ricette per provare ad uscire dalla crisi e la possibilità di lavorare al dettaglio, quindi a contatto con i cittadini e all'ingrosso, fornendo alle aziende, fornisce la cifra di quanto la qualità dei prodotti possa rappresentare quel passo in più nel mondo del commercio. È un evento che sicuramente serve al centro-sud perché fa muovere un po' l'economia e permette anche alle aziende locali di poter partecipare ad una fiera, aziende che altrimenti, piccole e medie aziende, avrebbero difficoltà a esporsi in contesti e ambiti maggiori come possono essere quelli del centro-nord Italia, quindi sono da promuovere questo tipo di manifestazioni.